ciao bimbi oggi ho pensato di raccontarvi come preparare un gioco meraviglioso che è chiamato il gioco dei travasi potete farvi aiutare dalla mamma dal papà o chi da chi vi tiene compagnie questi giorni per trovare tutto ciò che ci serve per preparare questo meraviglioso gioco sono cose molto semplici che sicuramente avrete in casa ci servirà una bacinella potete prenderla della dimensione che volete più sarà grande e più avrete la possibilità di entrarci anche dentro dei barattoli barattoli di plastica dello yogurt dei pentolini ed infine un pacco di pasta oppure dei fagioli della farina gialla dei chicchi di mais quello che trovate in dispensa preparato tutto è semplicissimo basta versare la pasta dentro alla bacinella ed infine usare le ciotole che travasare da una ciotola all'altra il materiale che avete scelto di usare questo gioco si può fare sia in casa sia fuori in giardino e potete chiedere anche alla mamma di poterli fare con l'acqua e che dire si potrebbe usare anche il bagno schiuma così che la bacinella sarà piena anche di polle e adesso buon divertimento ci vediamo la prossima volta ciao